Ciao a tutti, sono Filomena e sono qui per fare una piccola intervista per un workshop che sarà fatto a Riva del Garda, Parco Hotel Astoria e si chiamerà Shah Angel. Adesso inizieremo una piccola intervista con le persone meravigliose che faranno questo workshop. Patricia vuoi dirci qualcosa? Ciao, io sono contenta, abbiamo appena appena finito una piccola riunione insieme preparando per questo workshop fantastico che sarà, come ha detto la Filomena, questo workshop per me è una cosa bella perché già conosco Manu e Gian da tempo sempre godendo insieme, crescendo insieme adesso mettiamo gli angeli cristallini con i sciamani maestri accesi insieme e facciamo una connessione bella con la madre terra, il padre cielo con gli angeli e con questi belli belli amici che io come sono contenta di avere questa opportunità con voi. Fantastico Patricia, sei solare meravigliosa come sempre. Adesso sentiamo che cosa avrà da dirci Giancarlo. Bene, diciamo che questo workshop innanzitutto è molto innovativo perché si tratta proprio della combinazione di due energie specifici e veramente speciali proprio per la vostra crescita sia spirituale che pratica. Il nostro scopo è proprio quello di armonizzare il vostro Ying e lo Yang con le nuove energie del cielo e della terra, proprio con questa bellissima combinazione di altre frequenze angeliche con le frequenze veramente elevati, sciamaniche e dei maestri ascesi. Perciò se verrete a questo workshop ve ne renderete conto presto di come il vostro centraggio, diciamo, tra il cielo e la terra in questa nuova era vi porterà poi a scoprire proprio le vostre vere potenzialità umane, proprio le qualità umane che sono i doni divini che arrivano dal cielo per raggiungere proprio i vostri obiettivi, realizzare i vostri sogni, quelli che vi è più congeniali per voi ovviamente, ma soprattutto per voi ma anche per il bene collettivo degli altri, per chi vi sta più vicino, i vostri amici, i vostri cari, i vostri parenti. Però la cosa più importante è che tutto parte soprattutto da voi e questo lo comprenderete soprattutto a questo workshop meraviglioso. Grazie Giancarlo. Quale combinazione migliore di un uomo tra due donne? Aiii! Sicuramente piacerà a tutti. Siamo tutti curiosi di sentire ora cosa ci dirà Manuela. Ciao a tutti. È vero Filomena, in effetti è un uomo molto 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 fortunato. Allora innanzitutto benvenuti. Infatti sono un po' caldo adesso. Assieme alla bionda e alla mora, vero? Bellissimo. Allora questo è un connubio unico ragazzi, ci teniamo veramente tanto che voi siate presenti perché abbiamo unito queste due energie meravigliose, le energie della madre terra e l'energia del cielo attraverso gli angeli. Saranno due giornate intense in cui vivremo un'esperienza unica. Vi trasmetteremo tutto quello che abbiamo acquisito e che ci arriva direttamente dalle nostre esperienze e dalle nostre guide. Non mancate, vi aspettiamo davvero. Sarà un'esperienza grandiosa. Un grande abbraccio angelico a tutti. Grazie, grazie infinite. Vi aspettiamo numerosi, mi raccomando.